Aria aperto al pubblico dopo gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza il Parco Viviani di Via Girolamo Santa Croce. Questa mattina alla presenza del Sindaco De Magistris, del Presidente della Seconda Municipalità Francesco Chirico e di Marco Gaudini della Commissione Consigliare Ambiente, l'area verde è stata restituita alla città arricchita di nuovi spazi attrezzati dotati di un nuovo impianto di illuminazione. Tra le aree allestite un ampio spazio per cani, orti didattici, zona giochi per bambini ed un sito per il compostaggio. Grazie a una cooperazione molto forte tra il Comune di Napoli e la Seconda Municipalità, oltre che alle associazioni e a tanti cittadini, molto attivi in questi anni è stato riconsegnato al territorio un parco importantissimo che collega il Vomero al centro, un parco davvero bello con punti di accoglienza, decoro urbano, illuminazione, aree per cani, per picnic. Siamo davvero davvero contenti perché c'è stato un grande lavoro, tante difficoltà e quindi la giornata è cominciata una bella notizia.